Ciao a tutti ed eccomi con alcune nuove informazioni da Vilnius in Lituania. Dunque, Vilnius finalmente ha un nuovo sindaco. Il vecchio sindaco Remigius Simasius, liberale, che ha guidato la città per ben otto anni, ha deciso di non candidarsi più alla guida della città e quindi si è scatenato una corsa per le elezioni amministrative che si sono tenute a marzo e abbiamo avuto l'elezione di un nuovo sindaco. Niente comunque di nuovo sotto il sole perché l'attuale sindaco non ha nient'altro che il vecchio vice sindaco conservatore che si è presentato al posto dell'attuale sindaco Simasius che era il candidato uscente. Quindi la coalizione liberali e conservatori hanno praticamente fatto il cambio di passo, come si dice. Cioè il vice sindaco è diventato sindaco e l'attuale sindaco siederà solamente nel consiglio comunale. Ma la cosa più importante e per la quale io faccio questo video è per esaminare cosa succede nella politica lituana. Allora molti siamo abituati alla politica italiana che è fatta di gente perennemente in parlamento, perennemente con il sedere sulla poltrona, come si suol dire, e pensiamo che all'estero sia tutto completamente diverso o comunque meglio. Allora cominciamo a dire che comunque sì all'estero un pochino meglio è, ma abbiamo tantissimi esempi in tanti paesi del mondo, a partire dagli Stati Uniti, la Gran Bretagna, altri paesi che, tipo non so, l'Ungheria, la Bulgaria, che hanno comunque a volte dei buffi partecipanti alle elezioni e che spesso a volte riescono anche a vincere. Io penso a Boris Johnson, penso a Trump, che nessuno dava per esempio come vincitore e poi invece sono risultati vincenti. Quindi noi italiani che ci lamentiamo tanto della nostra politica, poi dobbiamo sempre fare i conti che tutto il mondo è paese. Però alcune cose cambiano. In Lituania, per esempio, i politici sono qualcosa a volte di terrificante. Innanzitutto guardarli quando promettono cose irrealizzabili fa venire in mente la nostra democrazia cristiana degli anni 50 e 60. Si sa benissimo che quello che stanno dicendo e promettendo non verrà mai realizzato. Lo sanno persino i loro elettori, eppure vengono votati sempre e costantemente. Ci sono due partiti qui in Lituania, i socialdemocratici, che derivano dal vecchio partito comunista che si è dissolto e ha cambiato nome, volto e tantissimi partecipanti, che sono ancora molto radicati nelle vecchie generazioni e comunque ottengono dei buoni risultati alle politiche, intorno al 15-16%. Poi ci sono i conservatori. I conservatori attuali non sono come i nostri conservatori, tipo la nostra Forza Italia o i nostri fratelli d'Italia. Sono dei conservatori abbastanza moderni, molto più moderati, molto più spostati verso il centro, e in questo momento, per esempio, sono guidati dall'Hansbergis, che è il nipote di uno dei salvatori della patria, che suo nonno è stato uno di coloro i quali ha promosso la liberazione della Lituania dopo l'insolvimento dell'Unione Sovietica. Ebbene, questi due partiti sono ancora predominanti all'interno della società. Eppure ci sono di volta in volta tanti partiti minori che tendono a diventare predominanti, magari per uno o due tornate elettorali, per poi tornare nell'oblio. Uno di questi, per esempio, era il partito dei lavoratori, per esempio, che è stato addirittura accusato di aver preso dei soldi da Mosca. O il partito dei Verdi e dei lavoratori delle campagne. Adesso non vi sto a dire il nome lituano perché è quasi impronunciabile. Che anche quello ha ottenuto tantissimi voti in qualche tornata elettorale fa. Ma la cosa più importante è che, gira e rigira la frittata, poi si scopre che i vecchi amministratori, quelli del Partito Conservatore e del Partito Socialdemocratico, sono ancora quelli che ottengono più voti perché sono ancora quelli che comunque sanno manovrare la macchina amministrativa. Ed ecco che la corsa per il sindaco di Vilnius, che non ha entusiasmato nessuno perché non c'era un grande pretendente, è comunque rientrata in questo schema e in questi canoni. Hanno vinto ancora i conservatori e i socialdemocratici e un conservatore è diventato sindaco di Vilnius. Ora, le sue prime dichiarazioni sono stati tranquillizzanti. Non vi aspettate, a parte che comunque era vice sindaco della precedente amministrazione che è durata più di otto anni, dice non vi aspettate grandi rivoluzioni nella capitale perché non ve ne saranno, quindi non vi sarà la grande promessa sempre fatta e sempre in disattesa di fare la metropolitana Vilnius, anche perché onestamente non ce n'è bisogno della metropolitana Vilnius e non ci saranno rivoluzioni dal punto di vista né demografico né di architettura né di infrastrutture. Quindi avremo ancora le stesse problemi di prima in pratica. L'altra cosa molto interessante e che mi fa sempre sorridere è la sconfitta di Arturas Juocas, l'eterno sconfitto che io chiamo l'eterno sconfitto della politica lituana. Arturas Juocas è un imprenditore locale che è stato sindaco di Vilnius all'inizio degli anni 2000, a metà tra un leghista e un populista. Era diventato famoso per le cronache in tutta Europa per aver portato un carro armato all'epoca all'interno della strada principale, la Grademino Prospectus, per fargli distruggere un'automobile parcheggiata in seconda fila, dicendo vedete con me da sindaco dovranno succedere queste cose, quindi mai più macchine in seconda fila e mai più traffico pesante in pieno centro storico. Cosa ovviamente che era diventato una boutade fantastica, lui è arrivato su tutti i giornali di tutta Europa, ma poi non è successo nient'altro. Anzi, lui non ha proprio chiuso il centro storico, il centro storico alle macchine è stato chiuso e regolamentato da uno dei suoi successori, ossia Remigius Simasius, che è appena uscito dalla competizione come ex sindaco di Vignus. Ecco, Artures Jouakes, dopo essere stato sconfitto da Simasius in una delle elezioni precedenti come sindaco di Vignus, ha tentato per altre ben due volte di rientrare nel lagone politico senza mai riuscirci. Io in un precedente video avevo detto che i politici mituani se sono trombati, spariscono e vanno a casa. In realtà ogni tanto tentano di tornare, ma i lituani sono abbastanza di visione lunga per farle rimanere al loro posto. Jouakes si è presentato prima per le elezioni presidenziali, ricordiamo che la Lituania è una nazione semi-presidenziale, il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dai cittadini e ha ottenuto neanche il 10%, mi sembra, quindi una percentuale risibile di voti e questo tornato elettorale è addirittura arrivato al ballottaggio come sindaco di Vignus e questo aveva acceso in due tante speranze, ma io ricordo e ho sentito tantissimi miei colleghi, coetani e amici che piuttosto che far tornare Arturas Jouakes, sindaco di Vignus, sono andati a votare il suo opponente anche se non ne condividevano le idee e le motivazioni. Quindi anche in Lituania ci sono politici con il pelo sullo stomaco e politici che vengono magari presi negli scandali, ce ne sono, non dico uno al giorno, però anche la Lituania soffre e ha sofferto nel passato dei suoi scandali, i suoi politici che rubavano, che sono addirittura finiti in galera, qualcuno, un ex Presidente della Repubblica in Lituania è addirittura stato dimissionato e gli hanno fatto un impeachment e quindi hanno buttato amare un Presidente della Repubblica, proprio perché è imbischiato in faccende poco chiare. Quindi quando noi ci lamentiamo della nostra politica italiana, io sorrido sempre perché è vero che la nostra politica non è la migliore al mondo, anzi forse è una delle peggiori e su questo possiamo essere tutti d'accordo, ma se l'Italia non è messa bene non pensiate che gli altri paesi siano messi davvero molto molto meglio. Certo, la Lituania è un paese piccolo, amministrare un paese piccolo è abbastanza relativamente semplice, qui tra l'altro sono arrivati un sacco di fondi europei, quindi i soldi che l'Unione Europea ha sempre investito da dopo la liberazione, quindi da 35 anni fa, fino ad oggi sono stati grandi e questo ha favorito da una parte lo sviluppo del paese in maniera interessante e dall'altra anche un magno magna, come si dice all'italiana, di un certo tipo. Però io voglio sottolineare che adesso abbiamo un nuovo sindaco, le elezioni sono andate come sono andate, ma non c'era comunque un candidato di quelli da farti gridare ho finalmente un candidato decente, quindi tutta gente mediocre. Vilnius non avrà niente di particolarmente nuovo e innovativo per i prossimi 4-5 anni, perché questo sindaco ha già deciso che non farà niente di superlativo e quindi io mi sento di dare come ultimo consiglio prendete quello che avete come politici e non vi lamentate più di tanto. Un saluto dalla Lituania, da Vilnius, iscrivetevi al mio canale e mettete un like e condividete questo video se vi è piaciuto. Alla prossima! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.